1944, sbarco in Normandia delle truppe alleate, è il D-Day. 1861, muore Camillo Benso Conte di Cavour. 1982, inizia la prima guerra del Libano. Commenta il Fatto del Giorno Michele Brambilla, direttore di Quotidiano Nazionale. Oggi parliamo di Orwell, lo scrittore che ha capito con 70 anni in anticipo come sarebbe diventato il nostro mondo.